Ed è arrivato un momento magico, sai? Qual è il momento magico? Te lo spiego dopo Dopo cosa? Dopo questo Ah Prego I suoi tabù Le sue madonne I suoi rosari E mille mari E alala I suoi vestiti Di reina e seta Le case a rete Marlene e Sherlock E dopo il giugno Il gran conflitto E poi l'Egitto E un'altra età Marce spastiche E federali Sotto i panali L'oscurità E poi il ritorno In un paese diviso Più nero nel viso E rosso d'amore Aida Come sei bella Aida Le tue patataglie I compromessi La povertà I salari bassi La fame puzza Il terrore Il son Cristo è stamino La fame È un povertà La fame Aida La fame La fame Ed è un povertà E un povertà E un povertà E un povertà Le tue patataglie Aida, come sei bella Aida, come sei bella È per noi un grande piacere avere qui con noi Alessandro Gaetano Buonasera a tutti Buonasera Ivan Ivan e Alessandro Che ci hanno suonato Aida Di tuo nonno Tuo zio? Mio zio Lui è il leader della Rino Gaetano Band Noi vogliamo festeggiare i 40 anni Del disco Aida Quale è il miglior modo per poter Festeggiare con voi qua Infatti vi ringraziamo per essere venuti Grazie di questa ospitata Dove possiamo vedere qualcosa di voi? Un sito? Rino Gaetano Band Facebook Aspetta che non si sente Rino Gaetano Rino Gaetano Band Facebook Rino Gaetano Band Facebook Sì, è semplicissimo Grazie mille Basta un like Siamo tantissimi Aggiungetevi Ma ve lo mettiamo sì Il like Andate a mettere un like Rino Gaetano Band Facebook Bene, quindi possiamo salutare anche gli altri ospiti? Possiamo Se tu mi dai via cominciamo con i saluti Vai comincia Io rimango qua con i miei Rimani con Rino Gaetano E con gli statali 66 Bravi G Max Bravo Poi salutiamo